Ciao ragazzi e benvenuti su Casting of Drums. Oggi nuovo pacco enorme di strumentimusicali.net Voglio andarvi a far vedere una cosa che da sempre mi rompe le scatole, cioè continuamente con i miei allievi o comunque continuamente in generale sento sempre la stessa cosa dei batteristi. Che cos'è questa solita cosa? Ve la spiego andando ad aprire questo pacco. Quindi apriamo subito il pacco. Non voglio dirvi cose oggi, voglio fare subito l'unboxing di questo pacco così da andare a scoprire cosa c'è dentro, anche se più o meno già l'avete visto dal titolo, dalla copertina, eccetera. Apriamo il pacco, vi faccio vedere le tre cose che ci sono qua dentro e poi vi dico tutto quanto. Quindi prendiamo le mie forbici orribili, come al solito, ormai sono diventate le forbici dell'unboxing. Apriamo un po' a caso questo pacco perché non sono... Ah no, è qua al centro. Ah, l'ho aperto al contrario. Vabbè, apriamolo al contrario e per stavolta chi se ne frega. Allora, che cosa c'è dentro a questo pacco? L'unboxing di oggi non è stato bello. No, devo ammettere che non è stato bello, ma non fa niente. Allora, l'importante è il contenuto. Per prima cosa abbiamo ovviamente un pedale, questo tanto l'avete già visto dal titolo. Primo pedale, Yamaha. Eccolo qua, veramente bellissimo questo pedale. Mamma mia, quanto sono belli i pedali Yamaha. Dopo vi spiego perché ho deciso di utilizzare questo pedale qua e di parlarvi di questi pedali. Poi, secondo pedale che andiamo a vedere, sempre Yamaha ma un pochettino diverso. Adesso vi spiego il perché. Qui abbiamo praticamente anche la borsa per portare il pedale. E all'interno abbiamo questo pedale qua che sembra uguale, identico a quello di prima. Se li vediamo, diciamo, sono identici. In realtà non sono identici proprio per niente perché questo qua ha la doppia catena, come potete vedere. E invece questo ha la trazione diretta. Quindi voglio andare a fare il confronto con questi due pedali, che sono secondo me tra i pedali più fighi che ci siano in assoluto. Almeno io ho sempre usato questa tipologia di pedali. Non questi Yamaha così nuovi, questi sono molto più belli. Però ho sempre usato Yamaha perché mi sono piaciuti un sacco. Non hanno un costo eccessivo, ma sono veramente buoni. Poi però vi voglio far vedere anche un altro pedale che mi è arrivato. Aiuto. Questo non è un Yamaha ma è un Tama. Vado ad aprirlo. Dove sono le forbici? E questo pedale ho voluto farvelo vedere perché costa meno, praticamente costa la metà rispetto a quei due Tama, ma secondo me è un ottimo pedale. Quindi se non avete un budget eccessivo, ma volete comunque un pedale buono, questo qua è perfetto. Sto parlando dello Speedcobra di casa Tama. Quindi, allora, perché ho voluto fare questo video? Perché troppo spesso dai miei allievi, troppo spesso da chi mi scrive su Instagram, da chi mi scrive per chiedermi delle cose, mi viene detto, ho problemi col pedale, quindi mi devo comprare assolutamente, oppure mi sono comprato questo pedale qua, perché l'ho pagato 400 euro, un pedale singolo, però è il pedale migliore che ci sia, e assolutamente con questo qua sicuramente avrò dei miglioramenti pazzeschi. È una cavolata. Quindi, questa è la solita cavolata che tutti pensano. Anch'io all'inizio pensavo quella cosa lì. Se ho un pedale super costoso suonerò sicuramente benissimo. Non è vero. Bisogna acquistare un pedale buono, come questo, come questo, o anche, nonostante il prezzo minore, come questo qua, e studiare bene la tecnica. Quindi, insieme a questi tre pedali, oggi vi voglio far vedere qual è la tecnica giusta del pedale, come fare per poter migliorare col pedale, perché è un problema che hanno tutti i batteristi, soprattutto alle prime armi. Quindi, andiamo a prendere questi pedali, comincerò con questo Yamaha qua, a catena doppia, e incominciamo vedendo un attimino la prima cosa da fare, la prima tecnica, praticamente, come settarsi sul pedale, e soprattutto andiamo a vedere qual è la differenza tra catena doppia, in questo caso, e trazione diretta, cioè con questo pezzo di metallo al posto della catena. Detto tutto, monte i pedali, sigla, e ci vediamo dall'altra parte. Eccoci qua, ho montato per prima cosa il pedale Yamaha con doppia catena, come potete vedere. Cosa molto importante di tutti i pedali, ve lo dico adesso e poi questo funziona per tutti i pedali. Se vado a svitare il pedale, e quindi lo tolgo dalla mia cassa, avrete la possibilità di fare alcune minime cose sul pedale. La cosa più importante, le due cose più importanti, sono... dove ho messo la chiavetta? Per prima cosa, decidere quanto avvitare, o comunque a che altezza avvitare il battente. Vedete, io svitando questa chiavettina qua, posso far andare su e giù il battente. Vi consiglio di metterlo a metà della pelle. Se avete una cassa da 22, come la mia, mettetelo praticamente a metà della pelle. Seconda cosa, la questione molla. La questione molla, che si può tirare o svitare o mollare, vabbè non è il massimo, però vabbè. Andando a tirarla in questo modo, voi tirerete la molla. Quindi cosa vuol dire? Che il pedale sarà più duro. Andando a tirarla meno, il pedale risulterà più morbido. Questo non vuol dire che col pedale più morbido si va più veloci e col pedale più duro si va più lenti. Vuol dire che dovrete fare un po' di prove. Fate tante prove con la durezza del pedale. Mi raccomando perché è molto importante. Io ad esempio, volendo un suono sempre abbastanza potente, non avendo bisogno di chissà che super velocità, tendo a tenere la molla abbastanza dura. Perché avendo la molla abbastanza dura, il pedale risponde di più, la pedana del pedale proprio risponde più velocemente a quello che voglio fare. Quindi ho molto più controllo. Invece lasciando la pedana morbida fa un po' quello che vuole lei ogni tanto e quindi si rischia di perdere un po' di controllo. Poi è vero che con la pedana morbida è più facile andare veloce, però io vi consiglio di fare un po' di prove e vedere dove vi sentite più potenti con il pedale quando lo suonate. Quindi, allora, proviamo questo pedale con la doppia catena e poi lo confrontiamo con l'altro. Parto dicendovi che, per quanto riguarda la tecnica del pedale, dovete sempre tenere il piede non in cima al pedale, ma tenetelo sempre più o meno a metà della pedana, quindi un pochettino più avanti della pedana. Diciamo che questo, avendo la scritta Yamaha qui, io devo riuscire a vedere la scritta Yamaha. Quindi sia simbolino sia scritta. Questa è la posizione perfetta. Poi se andate un filo sopra la scritta non c'è problema, però cercate sempre di stare più o meno a metà. Quando siete arrivati a metà, che cosa dovete fare? In pratica c'è la possibilità anche di suonare con il tallone verso il basso, ma ve lo sconsiglio, soprattutto se fate rock, pop, metal, eccetera. Dovete praticamente alzare il tallone e darvi una spinta con la punta, in modo da alzare tutta quanta la gamba, quindi così. Ovviamente una cosa che non vi ho detto è questa. Alzando il tallone vedrete che il battente della cassa andrà contro la cassa. Non preoccupatevi, tanto se nella vostra posizione di riposo il battente è contro la cassa, non suona il battente se sta contro la cassa. Quindi va bene anche lasciarlo lì, poi quando dovrete suonare allora tirerete indietro il battente e andrete a suonare in modo bello potente. Per capire soprattutto questo movimento qua di alzare con la punta e poi scendere con tutta la gamba, che cosa dovete fare? Praticamente andate a togliervi dal pedale e pensate un po' a quando siete nervosi. Quando siete nervosi con il piede che cosa fate? Fate questa cosa qua. Quando avete un po' di nervosismo, se è andato qualcosa male, fate questa cosa qua. Almeno molti fanno questa cosa qua, che in realtà fanno anche i non batteristi, non sapendo che questa è la tecnica giusta per suonare la cassa. Cioè, quando fate questo, voi che cosa state facendo? Praticamente con la punta vi state dando dei colpetti che fanno sì che alzino tutta la gamba, sia il tallone sia tutta quanta la gamba. Però la gamba non sta facendo nessuna fatica. Non è questo. Dove allora avete tutto tirato e quindi la gamba si sta alzando da sola. Qui è praticamente la punta che va ad alzare la gamba. E quindi la gamba è completamente morbida, quasi come fosse a peso morto. L'unica cosa che funziona è la punta che fa questo. Poi a un certo punto cercate di farne uno solo di movimento. Quindi, cosa dovete fare? Vi darete una spinta verso l'alto con la punta, cercando di stare con la pianta che ha tallone su e punta verso il basso, perché se vi alzate e siete così, significa che state tirando il piede. Dovete stare rilassati. Se siete rilassati, vedete il mio piede, andrà con la punta verso il basso. Quindi vi date la spinta, in questo modo, e poi lasciate scendere tutta la gamba. Portato alla batteria, questa cosa, cosa sarà? La salita normale e poi scendete a peso morto con la gamba, cercando ovviamente di scendere prima con la punta. Se scendete con tutta la pianta insieme non funziona. Dovete salire e poi scendere con la gamba tutta insieme, ma principalmente con la punta. Cercate di salire senza mai staccare il piede dal pedale. Questo è il modo giusto per fare i colpi con la cassa. Tra l'altro un video ve lo lascio qui dove vi spiego come fare i colpi doppi nel modo giusto. Però partite con questa tecnica qua, mi raccomando. Devo dire tra l'altro che questo pedale risponde da paura, cioè proprio qualsiasi cosa tu voglia fare risponde veramente bene, anche se vuoi fare tre, quattro colpi. Veramente, veramente, veramente bellissimo. Lo confronto subito con l'altro pedale Yamaha, quello con la trazione diretta. Allora, questo qua ha la molla troppo morbida per quanto mi riguarda. Quindi vado a tirare un pochettino la molla, girando qua come vi ho detto prima. Vediamo che qui... Ah no, così la sto mollando, che stupido. Vediamo adesso come va? Allora, non è male per niente, cioè un pedale pazzesco ovviamente, però probabilmente è anche una questione di abitudini. Io ho sempre avuto catena o singola o doppia, quindi quello con la catena mi sembra più pesante, come se avesse più peso. Quindi forse questo è per riuscire ad andare ancora più veloci rispetto al pedale con la catena. Utilizzando questo mi sembra di perdere un pochino di controllo. Quindi dipende a cosa vi serve. Se vi serve più controllo e più peso del pedale, quello con la catena. Se vi serve meno peso del pedale ma più velocità, allora trazione diretta. E vi faccio vedere l'altro pedale della Tama, che è questo qui. Questo, allora, bisogna per prima cosa montargli la molla, che è già montata in realtà, però basta andarla ad allocare nel posto corretto. Scartavetriamo qua il coso, com'è questo, fatto in mille pezzettini, poi non li trovo più in tutta la stanza, vabbè. Fatto, tutto a posto. Questa ha un battente un pochettino diverso, dagli altri solo un feltro. Questo in feltro è volendo dall'altra parte in plastica. Secondo me si potrebbe anche utilizzare da questa parte qua. Avete un suono un po' più secco, un po' più potente. La particolarità di questo pedale, tiro un po' la molla, tanto so già che sarà troppo molla, appunto, è che ha per prima cosa la pedana un po' più lunga, quindi anche se avete piedi abbastanza grandi come i miei, potete fare tutte le tecniche, tacco punta, la tecnica dello slide, parlo per chi magari sa già qualcosina in più di tecniche di batteria, e oltre questo costa veramente molto molto meno degli altri due. Quindi voglio andare a farvelo vedere perché secondo me è un ottimo pedale e ammetto che con i pedali Tama non mi son mai trovato troppo troppo bene, gli Iron Cobra non mi ha mai fatto impazzire, ma questo qua, lo Speed Cobra, Non è male, non è male, adesso forse ho tirato un po' troppo la molla per i miei gusti, però funziona veramente molto bene, devo ammettere che è un pedale ottimo e più che altro ti permette di andare abbastanza in giro, quindi tu puoi suonarlo un pochettino più avanti e quindi essere proprio attaccato, attaccato al pedale oppure far muovere un po' più il pedale e quindi lasciargli un pochettino più di gioco andando un po' più indietro. Puoi avere molte, molte possibilità, quindi secondo me questo è un buon pedale, è un buon pedale, è un filo più pesante rispetto agli altri, gli altri Yamaha erano proprio più maneggevoli, però questo qua appunto, contando che costa molto meno degli altri, è un ottimo pedale, se dovete comprare un pedale che funzioni bene, che vi volete portare per un bel po' di tempo, questo è un'ottima soluzione. Ragazzi, io sono arrivato al termine di questo video, spero vi sia piaciuto, spero vi sia servito e più che altro spero da adesso in avanti che utilizziate la tecnica giusta del pedale, quindi come va utilizzato bene il pedale, spero abbiate capito che acquistare un pedale super mega giga costoso non serve per farvi andare più veloci, per farvi suonare più forte, non serve a niente. La cosa che serve è avere un pedale buono, ovviamente non comprate un pedale da 10 euro, tutto scassato, ma la cosa importante appunto è avere la tecnica giusta. Con uno di questi tre pedali andate sicuri che avrete un pedale pazzesco, che funziona bene, che potete utilizzare per fare qualsiasi musica, qualsiasi genere, andare a qualsiasi velocità, ma oltre il pedale ovviamente vi serve la tecnica. Quindi detto questo io voglio ringraziare ancora strumentimusicali.net per avermi mandato in prova questi tre pedali e per avermi dato la possibilità soprattutto di farveli vedere, oltre a ricordarvi di iscrivervi al canale, se ancora non l'avete fatto di mettere un mi piace e di dirmi qui sotto nei commenti quale pedale utilizzate voi, qual è il vostro pedale preferito o se non l'avete ancora trovato, chiedere, qualsiasi cosa. Scrivete un po' di cose così se qualcuno ha dei dubbi, magari qualche altro utente che sta guardando questo video io gli rispondiamo e almeno avete la possibilità di trovare il pedale perfetto per voi. Basta, non vi rompo più. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!